ah la senti fra la senti senti l'aria del regno sabaudo siamo a torino ragazzi stiamo cercando la scuola di scp e ci sta aspettando proprio lì davanti una nostra cara amica sara vediamo un po se la troviamo allora siamo giunti a torino nella scuola di scp osp qua possiamo dire se ci pieni è questa qui la scuola vero buongiorno salve ci hanno detto che questi miglior fruttivandolo della città questo è un coprimento proprio permesso permesso la classica cosa per studenti allora il prossimo anno devo appunto scegliere il prossimo campus voi quale mi consigliereste berlino è un campus molto istituzionale storico però è caratteristico invece londra è proprio una la classica gisna ci sono attorno tutte le le taschiera e poi c'è parigi 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 è che l'istituto più storico di tutti e parigi ovviamente in pieno centro ti puoi muovere tranquillamente ma madrid sole bel tempo caldo campus aperto incredibile vetrato moderno è stato qualcosa di fantastico dato che abbiamo visitato tantissime strutture e abbiamo parlato con tanti italiani come si trovano qui gli stranieri a torino però devo dire che poi alla fine si trovano tutti bene anche perché insomma a torino c'è buon cibo poi comunque ci integriamo abbastanza bene adesso pensiamo tutte abbastanza per tranquilli parliamo quindi come abbiamo imparato a madrid buon proverso e queste devi sapere che a londra sono le orecchiette con le top of the rapa esatto bisogno di tutto il tour abbiamo imparato solo una cosa come dire cime di rapa in inglese troppo brava potrebbe essere il claim comunque di sb